Si toglie tutto quello di sotto e si rimane quello di sopra, perché la pianta si sviluppa, pure se sta qualche limone piccolino vicino, il primo anno si toglie per dare forza alla pianta. Vedete? Perché si deve sviluppare in altezza. Poi si fa un'altra operazione. Questo che cos'è? Mastice. E a che serve? Perché lo mettete? Per la piaga. Quindi per chiudere la ferita. Per farlo cicatrizzare insomma? Si. E questo è proprio giovane questo limone. Questo quanto c'ha? L'avete? Questo è quello? Ma mi sa guano, Salvatore mi pare. Magari due anni. Questo è due anni? Grazie. 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 Grazie a tutti